Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Top Farmer. Oggi parliamo delle novità in campo Kubota, cioè l'M5002 Narrow. Kubota in questi anni sta cercando di far pesare il proprio valore anche tra i filari infatti CHEON, consolidamento della posizione di rilievo ormai conquistata dalla casa giapponese sul mercato trattoristico europeo. Oggi analizziamo il modello M5002, nuova uscita che ha tantissime novità da presentarci. M5002 in versione Narrow, stretta è l'evoluzione della precedente serie M5001N. Questi modelli sono formati da specializzati sempre progettati da Kubota appositamente per la viticoltura e la frutticoltura in lavori generali che richiedono l'impiego di trattori compatti, a carreggiata stretta e a basso profilo, ma dotati al contempo di indole energica e grintosa. Ormai Kubota offre macchine dagli elevati standard di innovazione, efficienza, produttività e confort operativo quindi possono rispondere alle più moderne richieste dall'agricoltura specializzata. I nuovi M5002 Narrow hanno avuto un cambiamento molto netto tecnico-stilistico, infatti possono oggi vantare la rimotorizzazione in vista dell'adeguamento dei propulsori alle normative di emissionamento stagio quinto. I nuovi modelli possono montare motori a quattro cilindri da 74 a 115 curriculum, altamente efficienti, soddisfano le norme europee sulle emissioni stagio quinta e ci permettono di fornire potenza in abbondanza per tutti. I lavori di manutenzione e trasporto possiedono un'ampia e comoda cabina a base piatta, caratterizzata da un'ergonomia impeccabile, consente di lavorare in condizioni piacevoli e durature. Con i monitor IsoMatch Tellus è possibile trasformare M5002N in un trattore Isobus così da poter risparmiare tempo e risorse e quindi anche denaro. I trattori Kubota offrono una qualità e prestazioni eccellenti, infatti è possibile effettuare un contratto di manutenzione. In questo modo potete proteggere il vostro investimento per gli anni a venire. Inoltre, Kubota offre fino a 5 anni di garanzia per LM5002N. Grazie per aver seguito questo video. Al prossimo AgriVideo!